Non ci credo nemmeno io ma sta succedendo veramente E buon ciao ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete detto lo andremo a parlare di quello che succederà la prossima settimana Infatti la prossima settimana si terrà a Milano il Games Week dal 27 al 29 e noi saremo presenti insieme a tutta la community di Destiny Abbiamo quindi organizzato questo piccolo raduno sabato 28 settembre dalle 16.30 alle 18.30 Durante il quale saremo ospitati molto gentilmente da Red Bull e da Clash appunto allo stand Clash all'interno del padiglione 16 Che per intenderci è quello riguardante gli sport Purtroppo Raika non potrà esserci ma io verrò e ci saranno anche tutti i youtuber della community di Destiny Quindi Giorno Gaming, Laurent, Luga, Red Leo, Rewind, Elite Gaming e così via E essenzialmente queste saranno due ore in cui in primis potremmo incontrarci per la prima volta Il che è veramente una cosa molto emozionante da parte nostra Potremmo ovviamente chiacchierare, fare foto, discutere di quello che più pare Noi saremo lì per queste due ore a vostra totale disposizione Non so se avete notato ma ho fatto fare anche la maglietta del Jasper di cui vado molto orgoglioso apposta per l'evento E detto questo non voglio tirarvela troppo per le lunghe perché essenzialmente questo è Saremo appunto queste due ore alla fiera, venite in tantissimi perché sarà un momento di confronto Un momento in cui potremo per la prima volta chiacchierare e stare insieme direttamente senza uno schermo in mezzo Il che da parte mia è veramente molto molto emozionante e spero che un qualcosa significhi anche da parte vostra Ovviamente un ringraziamento speciale va a Red Bull Gaming e ai Clash che ci ospitano all'interno del loro stand Ma soprattutto da parte nostra a Giorno Gaming che ragazzi è stato quello che ha organizzato il tutto E veramente devo ringraziarlo con tutto il cuore di averci dato una possibilità del genere che da parte mia significa veramente veramente tanto Di base le informazioni che vi servono sono appunto queste Sabato 28 settembre dalle 16.30 alle 18.30 al padiglione 16 quello dedicato agli sport Più precisamente all'interno dello stand Clash Per ulteriori aggiornamenti ci saremmo ovviamente aggiornati sui social quindi mi raccomando seguiteci su Instagram Ci sono anche i canali di tutti gli altri partecipanti in descrizione andate a seguire ovviamente Quindi ragazzi io spero veramente che saremo numerosi e detto questo ci vediamo sabato prossimo